Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianforte. Oggi vediamo un brano molto bello di Nino D'Angelo, questa è una richiesta, non ci inseriamo a lì. Bene, prima di andare avanti a vedere le accordi vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta esce un video nuovo. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Mi maggiore, quindi dove ci sono i due tasti neri accanto abbiamo il Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si, è il Mi maggiore, poi avremo Do diesis minore, quindi Do diesis, Mi, Sol diesis, Poi andiamo indietro, abbiamo il La maggiore, quindi Do, Si, La, La, Do diesis, Mi, La maggiore, e poi accanto avremo il Si maggiore, Si, Re diesis, Fa diesis. E la canzone fa così. Volendo potete fare questo passaggio. A faccia questa buona Anche qui Do diesis, Si, La Mi è fatta innamorà Si maggiore Che sta semplicità Ok, qua fa questo La, Si, La, Si E se riuscite a farlo con gli accordi va bene, altrimenti potete fare anche E poi si ritorna al Mi Ma tu non mi dai ret Dice che si guaglione E non ti è nancò E da fa l'amor Ok, poi andiamo al ritornello Dove si aggiungeranno due accordi nuovi Che sono il Sol diesis minore Quindi partiamo sempre Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol diesis Si Re diesis Questo è il Sol diesis minore E poi avremo il Fa diesis maggiore Quindi Fa diesis La diesis Do diesis Inizia con il Mi maggiore Tu 15 anni Ma sei già donna Anche se piccola d'età Ancora Mi Qua mette il Fa diesis maggiore Ok, qua c'è un altro accordo soltanto Che è il Fa diesis Però anziché maggiore Questa volta sarà minore Quindi Fa diesis La Do diesis E fa così Ma va te innamorà Quell'aria da bambina che tu hai Non mi faccio aspettà Ho tempo vuole Tu boccato fai Ma va te innamorà Pure capricce e smorfie che mi fai Mi fa necchio attacca Tu non capisci o male che lo fai Poi a questo punto ci sta diciamo uno special Dove ci sta il La maggiore Parte con il La maggiore Le accordi sono sempre quelli E poi continua con il ritornello Però le accordi sono sempre gli stessi Bene, come abbiamo visto Anche questo è un brano molto semplice Da suonare nel pianoforte Io vi lascio comunque il link Dove trovate il testo con gli accordi In descrizione E poi altri due link Per imparare qualcosa Un po' gli accordi del pianoforte E qualche scala Ed in più la diteggiatura Per entrambe le mani Se voleste accompagnarvi Anche utilizzando la mano sinistra Ho fatto una puntata Che parla di come poterlo fare E quindi vi lascio il link Anche di quella Ok? Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima